Lunedì 8 novembre 2021, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dei nostri studi in via Cavoltrea a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulla prima pagina del Corriere delle Alpi, ecco come si apre l'edizione di oggi. Guardie mediche azzoppate, 8 professionisti lasciano l'incarico, sguarnite 4 zone su 9, l'ordine la rete territoriale non regge più. Questo per quanto riguarda la sanità bellunese, l'approfondimento lo troveremo a pagina 13 a firma di Dallanese. Case di riposo, il Covid entra anche nell'RSA di Belluno, due contagiati, il virus torna alla gaggia l'ante, contagiati un operatore sanitario e un anziano ospite vaccinati con tre dosi. Sono asintomatici. Usl numero 1, ancora sanità, code per i test e pass in ritardo, alta tensione al lab di Paludi. Rivolta al centro tampone di Paludi per le code e le lunghe attese per il Green Pass, arriva anche una pattuglia dei carabinieri. Le idee dobbiamo tutti prenderci cura del caso Samantha e adesso come con Eluana, ora che il giudice tutelare ha aperto la strada alla sospensione dei trattamenti vitali per Samantha, risparmiamo alla giovane di Feltri e ai suoi genitori quel calvario di parole vuoto. Troverete quindi un articolo a firma di Francesco Iori. Ma sempre dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, agricoltura, allevamento, lupi, cinghiali e volatili, conti amari in campagna. Ex tempore, premia le mani che si toccano, scolpite da Damiani, l'approfondimento di Marcella Corrà a pagina 17. Feltri, la ditta rinuncia, slittano i lavori per l'area digitale del Museo Civico. E la foto di copertina è dedicata alla prossima stagione estiva invernale. Scusate, impianti riattivati, entusiasmo in pista in 500 per le prime sciate. Si è già aperto in diverse zone della provincia di Belluno. L'approfondimento lo troveremo a firma di Dalmas a pagina 19. Adentriamoci all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi, pagina 2, coronavirus, stagioni a confronto. Troverete diversi grafici in questa pagina che rappresentano i positivi al Covid. Raffronto 2020-2021 in Veneto e il rapporto fra tamponi e nuovi contagi sempre con un confronto tra il 2020 e il 2021 in Veneto. Un anno fa iniziava il dramma dell'ondata più letale, oggi il vaccino fa la differenza. Il raffronto dei dati attuali con quelli di 12 mesi fa mostra che il virus circola nella stessa misura e la variante Delta più è maggiormente contagiosa, ma ci si ammala e si muore molto meno. Altri grafici, numeri di ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari in Veneto, sempre il confronto tra il 2020 e il 2021, nei mesi tra settembre e novembre. I nuovi decessi per Covid-19, raffronto 2020-2021 in Veneto, raffronto tra il numero di nuove vittime per Covid-19, dati compresi tra settembre e novembre 2020 e 2021. E come si può vedere, assolutamente questo è il picco del 2020, a differenza del 2021. Numeri completamente e fortunatamente diversi. La speranza andrà tutto bene nei disegni e la fiducia che batteremo il virus. Inaugurata a Padova, la mostra delle opere inviate a Zaia, presidente della Regione Veneto, da bambini e ragazzi del Veneto durante i mesi più duri. E sempre a proposito di Covid-19, esperti in pressing, vaccini under 12, così scuole aperte, Locatelli immunizzandole, si tutela anche la loro socialità, scontro tra il PD e i sovranisti sullo stato di emergenza. Altro argomento che troviamo a pagina 6 del Corriere delle Alpi. Attualità, la crisi nel Mediterraneo, tornano gli scafisti, allerta al Viminale, l'Europa ci aiuti. Sbarcati oltre 800 migranti a Trapani, altri 300 in attesa. Salvini attacca la Morgese e Di Maio, non fanno niente. Una nave tedesca porta in Sicilia più di 800 clandestini. Il governo ha chiesto a Bruxelles e Berlino di farsene carico. Questa la dichiarazione di Matteo Salvini, segretario della Lega. E troverete anche il racconto dei soccorritori sui corpi ferite aperte e ostioni da carburante. Malta ha rifiutato il consenso a far attraccare la nave con i profughi. La ONG, siamo sgomenti, ci aspettavamo una reazione da Bruxelles. E sempre a proposito della crisi nel Mediterraneo, Libia, continuano i raid antiprofughi e migliaia così diventano fantasmi. La Guardia Costiera ha intercettato in un anno 26.000 migranti, 4.500 sono stati registrati, gli altri sono spariti. Politica italiana, pagina 8, liga ambigua su vaccini e green pass, Italia in ginocchio senza noi europeisti. Mara Carfagna, ministra del Sud, Draghi, resti premier, è l'unico che può garantire la qualità delle riforme per il PNRR. Ma andiamo avanti con le notizie che riguardano il Veneto. Pagina 11, morto della valle, guidò il boom della Fidia. Ma allora, improvviso, per l'imprenditore farmaceutico, dopo l'addio di Abano, aveva fondato la Epitec di Sacco Longo. Le idee, prendiamoci tutti, cura del dramma di Samantha. Troverete l'articolo riflessione a firma di Francesco Iori. Queste alcune riflessioni estratte dall'articolo. A cose di tale portata non si può dare risposta solo attraverso una legge o una sentenza. Basta parole a vuoto, prendiamone semmai lo spunto per riflettere sul difficile tema del fine vita. Notizia che riguarda la giovane belonese, ormai da un anno attaccata al respiratore e la famiglia vuole staccare la spina, secondo le volontà stesse di Samantha, che però non aveva scritto nulla nero su bianco. Un articolo da leggere a firma di Francesco Iori. Pagina 13, l'allarme, otto guardie mediche lasciano l'incarico. Questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. L'ordine e sistema non funziona più. La carenza di professionisti mette in crisi anche i servizi territoriali. Chiusure orari limitati in quattro zone su nove. Il presidente Capelli, presidente dell'Ordine dei Medici di Belluno, la situazione è critica, servono incentivi per attrarre personale. E a proposito di sanità e della crisi che sta vivendo per la carenza di personale, resta un solo specialista a medicina nucleare in crisi. L'altro professionista sospeso perché Novax. Nuovo bando dell'Istituto di Previdenza, visite fiscali a rilento. L'Inps cerca personale. Pagina 14, il caso Green Pass in ritardo. Utenti bloccano l'Hub, arrivano i carabinieri. Code ai Covid Point di paludi e lunga attesa per avere il QR. Scatta la rivolta. L'USL manda altro personale per i tamponi. Notizia che riguarda anche l'ex ceramica Dolomite, ovvero i da standard, assemblee sull'intesa in regione. Si svolgeranno oggi le assemblee sindacali con i lavoratori dello stabilimento dei da standard di Tricchiana. Il segretario di Filtem, CGL, Femca Cisle, Wilm, Wiltec Wil spiegheranno ai 450 dipendenti quanto è emerso venerdì al tavolo regionale quando si sono messe le basi per una intesa con la società multinazionale per vendere la fabbrica. Orari ampi e ticket online alla Fiera dell'Orientamento è pieno di ragazzi e famiglie. Ben 4.350 le persone che hanno visitato gli stand allestiti dalle scuole. A Sedico sono arrivati studenti anche dal Cadore e dal Comelico. Pagina 15. Coronavirus. Il Covid torna all'RSA di Belluno. Due positivi. Contagiati un operatore sanitario e un anziano. Ospite vaccinati con tre dosi. Entrambi sono asintomatici. Test sui familiari. Medicinali razionati dal robot. Il personale guadagna tempo. L'armadio automatizzato è costato 170.000 euro. Codice a barre per individuare i pazienti. Fa risparmiare 3.000 euro l'anno. Bilancia la carenza di personale. Fa ipotizzare nuovi servizi. Notizia in questo caso che riguarda il settore farmaceutico in provincia di Belluno. Pagina 16. Cortina. Malori per il freddo. Alla messa per i caduti. Marinaio perde i sensi. Il militare è trasportato con Elia Bolanza al San Martino. Il sindaco non si riprendeva. Eravamo in apprensione. Ponte nelle Alpi. Ladri in azione nella frazione di Piaia. Visitate tre case. Presi soldi e ori. Verso le elezioni. Notizia che riguarda il capoluogo. Insieme per Belluno e il centrosinistra. maggioranza PD e progressisti uniti con candidato sindaco di esperienza. Parliamo appunto di Massimo De Pellegrin. Pagina 17. Premiate le mani che si toccano. L'extempore sceglie il contatto. La giunta tecnica indica l'opera di Damiani. Stampa e Fidapa puntano su Cozio. Menzione a Vierer. Ed ecco un momento delle premiazioni. A sinistra Nicola Cozio che riceve il premio dalla presidente del consorzio. A destra Dino Damiani. Le sculture di certo verranno pubblicate nei prossimi giorni sui Corriere dell'Api. Oppure per chi ha Belluno passi in centro e di certo le potrà vedere. Altra notizia che vedremo in questa pagina. Volontari nei boschi di Molinello a caccia di plastica e coci di vetro. Lentiai giornata ecologica promossa dalle associazioni del territorio. Il gruppo Salvatà John Fibbi. Un atto di amore per la terra in cui viviamo. Notizia di spalle. Pieve a lezione dalla Segantin sul clima che cambia. Passiamo a pagina 18 con la rubrica Vivere la Gordino. Fra Senè porto sicuro dopo le crociere una vita più sana e che fa sentire liberi. Lorenzo Tortiello ha girato il mondo. Ora ha riaperto la casa della nonna. È bene preservare identità e valori ma il confronto è sempre utile. Troverete quindi questa intervista a firma di Gianni Santomaso. Napoli, Venezia, Milano. Poi lo stop per il Covid e la decisione di tornare in a Gordino. Una notizia quindi che riguarda bellunesi che rientrano a investire nel territorio della provincia di Belluno o anche di persone che non c'entrano minimamente con la nostra provincia ma di cui si innamorano e che vogliono dare qualcosa in più per la crescita del territorio bellunese. Pagina 19, questa è la notizia che ha aperto come foto di copertina l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi. Quasi 500 sciatori in pista, gioia e commozione a Col Gallina, riaccesi gli impianti di risalita dopo 600 giorni dallo stop per contenere la pandemia. Registrati 5.900 passaggi, zardini e le prenotazioni negli alberghi arrivano copiose. Il debutto affidato al maestro di scifrare, momento atteso da ormai due anni. Ed ecco, un momento degli sciatori in seggiovia in pista a Col Gallina. Ieri si è aperto ufficialmente la stagione a Cortina e come si può vedere la neve è presente. Nodi da sciogliere, green pass in funivia, il presidente della provincia padrina tamponi nelle località sciistiche. Passiamo a pagina 20, lupi, cinghiali e cornacchie, conti a mare nelle campagne belunesi. A San Martino si fanno i bilanci, gli animali selvatici più dannosi dei rincari, a possi volati gli hanno mangiato la semina, servono piani di contenimento. E sempre a proposito di agricoltura, in provincia di Belluno, Belluno, ortaggi artigianato, i mercatini di Natale affidati a Coldiretti, crisi del latte, materie prime in aumento, SOS, allevatori. Passiamo a pagina 21, beni culturali e turismo, notizia che ci porta a Feltre, area multimediale al museo, va cercata un'altra impresa, frenata al restauro della casa del custode che ospiterà l'allestimento digitale, la ditta edile incaricata dei lavori ha rinunciato e va rifatta l'assegnazione. Notizia di spalle dall'anno di piave, bogana irremovibile, nessuna antenna 5G senza piano strategico. E ancora notizia dal Feltrino, Querovas, auto a fuoco sul piave, i carabinieri e i pompieri indagano sull'incendio. E sempre da Querovas, i vigili forzano la porta chiusa accidentalmente. Pompieri mobilitate ieri pomeriggio a Quero per forzare una porta d'ingresso e permettere ad un papà rimasto chiuso fuori casa di riappiacciare il suo bimbo di un paio di anni rimasto all'interno dell'abitazione. Pagina 22, l'impegno con la Madonna va onorato. Sfida sulla delibera di 70 anni fa. Mario Gris rispolvera l'atto formale del Consiglio Comunale del 1951. Promessa violata più volte, meglio revocarla. Continuiamo con la tradizione. Voto contro la pestilenza. Tutto pronto a Mugnai per celebrare il decennale. L'iniziativa della frazione entrano nel vivo nel weekend. Domenica 21 in programma alla processione della Statua della Madonna della Salute. Dalla rubrica Cultura e Società, Magno Lato, l'artista che non può vedere le sue opere ma ancora le racconta, Moriago, rende omaggio al cantore dell'Aspra Terra del Piave e lui a 95 anni dice Conservo vivi colori nella memoria. Spettacoli nella mia nuova opera, Canto la dosana, Acqua che porta la storia nella natura. Un periodo intenso per il compositore veneziano Claudio Ambrosini e l'ex novo esemplà tra debutti e premiazioni. Continuiamo con lo sport dedicato alla provincia di Belluno. Come sempre lunedì è ricco di notizie. Incominciamo con il calcio di Serie D. Dolomiti castigata a Chioggia, il patatrack sul solito angolo. La Clodiense vince grazie a un colpo di testa di Mibut nel primo tempo ma sui comer i bellunesi continuano a fare disastri. Calcio di promozione rimane a Cavarzano. Parte forte, poi frena. Santa Lucia rimonta 1-1 il risultato finale. Altri risultati di calcio di promozione. 0-2 tra Ponzano e Fioribarpo. 1-1 tra Schiara e Cordiniano. 0-3 tra San Michele e Borgo Valbelluna. Ancora calcio di prima categoria. 4-0 tra Alpago e Cadore. In campo c'è solo l'Alpago. Per il Cadore è Buio Pesto. Calcio di seconda categoria. Gordina e Ponte non si pungono. Finisce a occhiali. Questi risultati 1-1 tra Juventina, Mugna e Arsie. 0-0 tra Gordina e Ponte Alpi. Ancora dalla seconda categoria. 2-3 tra Castione e Lentiai. 2-1 tra Sospirolese e Gemelle. Girandola di gol a Castione. Lentiai ne fa 1 in più. Per la terza categoria. Oronzo ve in bianco in vetta solo il Nogaret-Corsaro. Ecco alcuni risultati della terza di categoria. a Belluno. 0-0 tra Oronzo Sois. 0-1 tra Alpescesio e Nogaret. 2-1 tra Comelico-Piave. 5-1 tra Cortina-Val Boite. Calcio Iognories. Alpago a Gordina-Cavarzano-Limana. Pari per tutti. Ed ecco appunto il pareggio. 3-3 tra Alpago-Cappella-Maggiore. 2-2 tra Giavera-Cavarzano-Limana. 1-1 tra Gordina-Union. Qdp. Un 3-4 invece per il Cadore e il Vazzola. Altri risultati. Under-17 Elite. Girone-C. Dolomiti. Due gol al vittorio. E sorpasso al vertice. Per gli Under-15 Elite. Dolomiti. Tre punti sudati a Treviso. Nel regionale. Bene a Cade-Mie Cadore. Notizia anche che riguarda il calcio femminile. Keralpen. A Sacile è un super poker. Femminile eccellenza. 1-4 tra Nuova Virtus e Keralpen. Femminile Under-19. 10-1 tra Paglia. Padova. E sempre Keralpen. Calcio. I tornei del CSI. Sedico a fatica. Chiesse di gole. Ada. Le prime tengono. Ecco i risultati per il girone A. 5-0 tra Chiesse Bar Quadrifoglio. 1-0 tra Sedico. Kral Farrese. 2-0 tra Sottocastello. Bellunese. All fit. Cambiamo sport. I campionati di basket. Serie C. Silver J. Mv. Rese incondizionata al Conegliano. Feltrine incompleti. E partita a senso unico. Con gli ospiti che mitragliano dalla distanza. E prendono subito il largo. 46-85. Risultato finale tra JNV Feltre e Conegliano. Volley. Serie A3 maschile. La Darolda spreca 2-7 di vantaggio e perda al tie-break. Montecchio galvanizzata dalla rimonta. Passa al quinto crescendo di livello. Buon punto contro la quarta forza del campionato. Ma resta il rammarico. 3-2 tra Montecchio. DRL. Belluno. Volley. Serie C maschile. Spes. Errori nei momenti topici. La spunta il Bolzano-Vicentino. I belonesi, sempre vincenti in Coppa, inciampano al debutto e recriminano. Nell'economia di una sfida equilibrata ha pesato un terzo set e perduto male. 1-3 tra Spes Belluno e Bolzano-Vicentino. Pallamano. Serie B. Firex. Tutto facile a Oderzo. Gara in Naftalina già a metà. Canale Cimbro in mattatori con 12 reti a testa. Debutto per il 2006. Tavera. Avversario giovane ma successo che fa morale in attesa di test più probanti. 19-39. Risultato finale tra Ponte di Piave e Firex. Belluno. Ok. Serie B. Un'alega autoritario. Dilaga in casa del Pergine. E Sarampica in classifica. 3-6 il risultato finale. Passiamo alle previsioni del tempo. in Veneto per la giornata di domani. Prima di salutarci. Cielo sereno o poco nuvoloso con visibilità ottima. Salvo ingresso di nubi alte sulle zone meridionali. Verso sera possibili foschie fino al mattino sulla pianura occidentale. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'una ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata. In compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'associazione belunesi nel mondo. Grazie. Grazie. Grazie.